Mezzo secolo, questo è il traguardo raggiunto quest'anno dalla scalata al castello. La cinquantesima edizione della manifestazione, tradizionale appuntamento con il podismo internazionale, è in programma per domenica 28 maggio. Non è solo un bel traguardo per l'evento stesso e per la Polisportiva Polliciano, che ringrazio per l'organizzazione, ma per la città stessa, perché ormai è un evento che si identifica con la città. L'evento di podismo è un'atletica più importante con atleti di caratura nazionale e internazionale. Ne abbiamo visti tanti in questi anni e ne vedremo tanti anche domenica. Dalle 9.30 scatterà la gara amatoriale con 350 iscritti, alcuni anche oltre ottantenni. Dalle 16 cominceranno poi le gare giovanili che culmineranno con la gara internazionale. Lì avremo dei personaggi di altissimo livello. In ultima, proprio recentemente a Manchester, c'è stato Faniele, l'atleta azzurro di origine eritrea, che sarà presente, quindi è cittadino italiano, che sarà protagonista di questa competizione. Dovrà combattere con tanti atleti africani, poi ci sarà il campione europeo Meucci e altri atleti. Il vincitore dello scorso anno, Isatou. Quindi ci sarà a livello maschile un parterre veramente strabiliante. A livello femminile lo stesso con la Muli, che è stata protagonista l'anno scorso e due anni fa, quindi vincitrice per due anni consecutivi della scala da Castello. Ma ci sarà anche l'Alonedo, una delle azzurre emergenti, che l'anno scorso ha fatto un grande risultato ad Arezzo. Il percorso corrisponde al classico quadrilatero attorno a Via Roma, Guido Monaco, Via Garibaldi, Sant'Agostino, Via Margaritone e ancora a Via Crispi e Via Roma. Saranno sei giri per le donne e dodici per gli uomini. Durante la corsa la circolazione sarà interrotta per il tempo necessario al passaggio degli atleti, sia al mattino che al pomeriggio. Facciamo sì che domenica sia una giornata di sport e noi faremo sì che i disagi siano limitati, sia per i residenti, sia per tutti i visitatori che si vogliono godere la nostra città. Il ricordo infine quest'anno non può che andare a Giorgio Cerbai, scomparso recentemente. A lui sarà dedicato un minuto di raccoglimento, mentre metà di quanto raccolto con le iscrizioni verrà destinato all'Emilia Romagna. Ci è sembrato doveroso in questo momento di difficoltà che hanno molte famiglie vicine a noi.